Il politico Matteo Salvini Sembrerebbe anche però che sia intervenuta la sua security addirittura Perché un gruppo di ragazzi evidentemente ha esagerato un po' troppo sia con i telefoni che con le prese per il culo Come si legge appunto da questo commento scritto dal creatore di questo filmato E io prontamente vi censurerò sia qui che nel filmato Perché non essendo un personaggio pubblico ma un individuo privato Magari non vuole apparire quindi non devi dare problemi facciamo così Vi lascio filmati e noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio Ciao ragazzi Ciao ragazzi Forza Milan Forza Milan Forza Milan bravo